ok ragazzi preorder che tutti quanti aspettavamo l'8 di dicembre uscirà un'edizione speciale di atom heart mother dei pin floyd nell'edizione al momento cd più blu ray video che abbiamo già messo in preorder sul nostro sito www.vinistike.com attenzione perché una limited edition per cui prenotate subito l'interno conterrà il cd di atom heart mother più un blu ray video del primo concerto dei pin floyd in giappone e tantissime meraviglie biglietti dei concerti libro un fotografico guardate quanto è bello vedere guardate quanto è bello mi raccomando è un evento unico edizione limitata andate subito su www.vinistike.com e prenotate 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 prenotate